Grazie a tutti. Il titolo del suo intervento è Intervento osteopatico nelle disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare. Una bocca che si muove in un cranio che si muove. Grazie. Grazie a tutti. 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 Un tema transdisciplinare che riguarda molti altri professionisti, molto brevemente non vi ammorberò sulla anatomia, ma dovrò parlare dell'ATM come di una diartrosi importante, una articolazione che si muove tanto, è una condiloartrosi doppia, doppia non perché è destra e sinistra, ma doppia perché è copresente un lato superiore, lato inferiore di ogni articolazione temporomandibolare. In mezzo c'è un disco di cartilagine che è proprio quello che permette, garantisce la macromobilità in tutti i versi. E vediamo un po', quindi approfondiamo un pochino, molto rapidamente questo concetto. Parliamo di 4 ATM, non di 2 ATM, perché c'è una separazione in due compartimenti, la parte superiore e la parte inferiore, e questa separazione è embrionale, anatomica e funzionale. Rapidamente, dal punto di vista embrionale, ogni articolazione nasce normalmente da un blastomero, che è una specie di pappetta originaria di mesoderma, che poi si sepimenta e forma le due cartilagine articolari. Bene, l'ATM nasce da due blastomeri, uno viene giù dal cranio, il blastomero temporale, e l'altro viene su dal condilo. Questi blastomeri si sepimentano, si fondono le parti intermedie, fino a creare un menisco in mezzo, e questo diventa cartilagine articolare del cranio, e questo invece rimane cartilagine articolare della mandibola. Ma questo vuol dire che qui abbiamo due sinoviali, una superiore e una inferiore, con due compartimenti, due liquidi sinoviali, due innervazioni diverse. Anatomicamente, i due compartimenti rimangono talmente separati che addirittura in passato, quando non c'era la risonanza magnetica, c'era questo esame incredibile, si faceva un'iniezione di mezzo di contrasto nel compartimento inferiore, e poi si faceva la stratigrafia. Se trovavamo mezzo di contrasto solo nel compartimento inferiore, l'ATM non era danneggiata e il paziente andava in riabilitazione. Se invece si vedeva mezzo di contrasto anche sul compartimento superiore, voleva dire che c'era stata una perforazione, un'artrosi, e il paziente andava in chirurgia, per farvi capire come anatomicamente rimangono separate. Ancora, dal punto di vista funzionali, le quattro ATM funzionano separatamente. La parte inferiore ruota, mentre la parte superiore trasla. E da qui viene fuori il movimento macroscopico di rototraslazione che tutti abbiamo messo in pratica poche mezz'ora fa, masticando e parlando a pranzo insieme. Quindi mi viene un dubbio. Se quello che avviene sotto è un affare di mandibola, ci sto a far finta che sia una specializzazione di dentisti. Ma se quello che avviene sopra è un fatto di cranio, chi se ne occupa? Il dentista più della mandibola e forse di qualche dente attaccato alla mascella non ne sa niente. Chi si occupa di questo cranio? Quindi è qualcosa, forse, che comincia a essere trasdisciplinare. Ancora peggio. L'ATM è una delle quattro articolazioni, pur essendo così piccola e diciamo dimenticata dai libroni, più sofisticate del nostro corpo, perché ha la capacità di muoversi a tre gradi di libertà. Quindi si muove nei tre piani dello spazio, nelle due direzioni. Sopra, sotto, avanti e dietro, destra e sinistra. E non sono tante le articolazioni che fanno così. Ci sono soltanto altre quattro, la scapolomerale, la coxofemorale e la stragolo calcaneare, di cui altri relatori hanno anche parlato in questa giornata. Queste articolazioni fra loro si parlano, si parlano per motivi meccanici, per motivi anatomici e in qualche modo, essendo le uniche che possono compensare su tre piani, si passano delle informazioni. Tanto che si possono creare degli schemi prognostici per farci capire laddove non si parlano più se c'è qualche blocco, qualche disfunzione, qualche restrizione di mobilità che ha bloccato il passaggio del tono muscolare. La nostra scuola, insieme all'Università Torvergata, proprio su questo test, stiamo elaborando una ricerca per dimostrare a tutti gli effetti la potenza prognostica, non diagnostica, ma prognostica, di questa semplice valutazione, che parte dall'ATM. Quindi, se questo è vero, quello che avviene nella bocca si trasmette all'ATM e dall'ATM, che è una stazione posturale, si trasmette al resto del corpo. Molto difficile fare di questa struttura, quindi una struttura super specialistica. Mettiamoci un altro carico da 90, il significato neurofisiologico dell'occlusione. I solchi e le fossette dei denti, in realtà, non stanno lì messe soltanto per far giocare il dentista quando si diverte a costruire otturazioni o protesi, ma hanno una importanza fondamentale per un segnale neurologico che viene trasmesso. Ogni una di queste cuspidi ha un valore neurologico e sotto c'è un cablaggio dei recettori paradontali talmente preciso che si attivano i recettori solo se c'è un tipo di contatto che deve essere puntiforme, verticale, particolare. Negli altri tipi di contatti il segnale invece viene a risultare sporco. E tutto questo va su attraverso la propriocezione, attraverso una grande struttura del tronco encefalico che si chiama l'emnisco trigeminale, che occupa quasi un terzo del tronco encefalico. Pieno, è un nucleo lunghissimo, il più grande di tutti i nuclei recettoriali del nostro corpo. Da qui parte un lemnisco, un fascio molto grande. E questo perché? Perché nel nostro cervello c'è una rappresentazione esagerata. Voi tutti avete riconosciuto l'homunculus di Penfield, qua, motorio e sensitivo. Il nostro cervello è convinto che la bocca, la lingua, i denti, l'occlusione, l'ATM siano in realtà grandi come un terzo del corpo, come effettivamente è a livello embrionale. Ma dopo la bocca, il cranio smette di crescere, tutto il resto cresce, ma il cervello se lo dimentica. Questo è un fatto che se non lo sappiamo è una fregatura. Cioè vuol dire che è una piccola modifica di un dente, grande effetto ridondante nel cervello rispetto a uno squarcio sul sedere, un problema incredibile sul tallone. Questo dà meno informazioni. Se lo sappiamo diventa un'opportunità per poter veicolare un treno di impulsi che noi chiamiamo reset, attraverso il contatto dell'occlusione dei denti. Terzo dubbio quindi. Ma c'è un altro fattore che è quello che mi interessa un po' di più descrivere, il fattore craniale. Questo signore, William Sutherland, oltre cento anni fa cominciò a smontare e rimontare i crani perché era convinto che il principio di Steele, che tutto era movimento nella vita, fosse vero anche e applicabile al cranio. E si è accorto effettivamente che certe volte proprio sui tavolati di inserimento delle ossa del cranio, le ossa normali che noi tutti conosciamo, il frontale, il parietale, il temporale, ci fossero delle inversioni di tavolato, come degli incastri, molto difficili da realizzare embriologicamente, che non si spiegava perché la natura avesse fatto uno sforzo incredibile su una stessa sutura a invertire il tavolato di un osso, creando quindi dei pivot, dei punti dove questo tavolato venisse invertito. La spiegazione, il ragionamento di Satella, che ha impiegato quasi 30 anni della sua vita a elaborare, è che quei punti servissero a fare una specie di cerniera per garantire dei piccoli scivolamenti e piccoli movimenti. E da lì è partito un ragionamento che ha portato alla conoscenza e all'acquisizione da parte della medicina. In America questa cosa è medicina, da noi è fantascienza purtroppo, però in America ci lavorano, ci sono ospedali di tre piani dove fanno osteopatia craniale e non fanno altro. e trattano i bambini, le donne incinta, i problemi immunitari attraverso questo tipo di tecniche. E ha portato a conoscere questo ciclo cranico, che ha il nome di, in Europa ha assunto il nome di meccanismo respiratorio primario, una sorta di respirazione che non proviene dalle ossa però, proviene ancora da più profondità. E è stata misurata varie volte la frequenza di questo ciclo che si assesta intorno ai 8-12 cicli al minuto. Una cosa quindi che viaggia a 10 Hz. Incredibile, ma negli anni 50 e successivamente fino agli anni 70 è stata misurata, forse tutti conoscete la risonanza di Schumann, che è una sorta di respiro del campo magnetico terrestre, le oscillazioni che fanno i picchi del campo magnetico terrestre mentre si muovono, che ha due picchi fondamentali proprio tra 7,8 Hz e 14,1 Hz, cioè sembra in qualche modo accogliere questo nostro respiro encefalico. e Sutherland, per spiegarci meglio, per far capire il ragionamento di questo meccanismo cranico di respirazione, ha elaborato questi cinque principi, di cui io vi presento rapidamente la bibliografia, se no sembrano sempre cose che gli osteopati un po' si inventano. Mobilità inerente alle masse cerebrali. Non è che le ossa si muovono perché ci stanno attaccati i muscoli, le ossa si muovono perché c'è il tessuto nervoso che spinge e si muove. Questo lo sanno i neurochirurghi. Quando aprono la calotta cranica si accorgono che c'è questa testa, c'è questo cervello con la dura madre che in realtà respira e devono aspettare prima di fare la sutura perché se no, se è in una fase di espansione, non riescono manco ad avvicinare gli aghi, diciamo, e fare la sutura. E il lavoro dopo Sutherland ha portato a riconoscere che fossero gli oligodendrociti, le cellule gliali del sistema nervoso, che contengono attina e miosina e hanno una contrazione ritmica. Contrazione ritmica molto diffusa, molto fibrillante, che però si sincronizza, ci dice Hayden, quando mettiamo liquido cefodorachidiano dentro la capsula per valutare la mobilità di questi oligodendrociti. E il ciclo globale di espansione si assesta proprio intorno ai 10-12 cicli al minuto. Da questa espansione tessutale, diciamo, che tra l'altro l'osteopatia riconosce dentro ogni viscere, si crea poi una pressione sui liquidi. Il liquido cefodorachidiano, soprattutto, ancora più importante nel cervello, dei liquidi arteriosi e venosi. Che cos'è? È un liquido puro, completamente puro, prodotto in continuazione dal nostro cervello, che si assesta dentro i ventricoli, eccoli qua, sono delle cavità scavate nel cervello, servono proprio a raccogliere questi fluidi, e anche all'esterno, come una protezione esterna, nello spazio subarachnoideo. Questo liquido, in qualche modo, è prodotto, riassorbito, circola e fluttua, con un meccanismo di ritorno automatico che garantisce il passaggio, come dice Maurizio, nel 2000, l'ultima ricerca abbastanza recente, anche il collegamento tra la fluttuazione del liquido cefodorachidiano e i ritmi circadiani, che si attivano proprio al passaggio di queste forme, diciamo, sia chimiche, sia però energetiche, perché il liquido cefodorachidiano è carico elettricamente, e questo sarebbe interessante aprire una discussione, ma la chiudo, se no poi arriviamo a dopocena, però sarebbe uno spunto di ricerca, c'è anche un qualcosa di energetico, tra l'altro, campi elettrici che girano, producono magnetismo, quindi è un discorso veramente interessante, ma ancora non siamo arrivati alle ossa, le membrane a tensione reciproca sono il passaggio per arrivare alle ossa, perché i fluidi sono dentro il cervello, ma le membrane che separano gli emisferi, voi tutti avete in mente la dura madre, la falce del cervello, il tentorio del cervelletto, sono attaccati alle ossa e recepiscono questa tensione, questa pressione idraulica, e la trasmettono alle ossa, non soltanto alle ossa, ma come Pagge ci suggerisce, anche alle fasce esterne del corpo, perché è stata misurata la continuità tra la dura madre endocranica e le fasce cervicali profonde e medie, e anche ai nervi periferici, perché l'epinervio del nervo periferico non buca la dura madre, se la porta presso, se la porta presso perché ci cresce dentro, fino alla periferia, dando a questo respiro craniale una sorta di amplificazione che diventa poi sistemica, e si può percepire a distanza del corpo. A questo punto le ossa si muovono, perché sono spinte, spremute e tirate dalle membrane, e le ossa si muovono in modi particolari che l'osteopatia cerca di valutare, di misurare e di trattare. Chiaramente ogni trauma, ogni ripercussione, ogni problema può bloccare questo meccanismo, a livello forse fluidico, a livello membranoso, ma soprattutto a livello meccanico, e l'osteopatia, lo sforzo che fa è quello di cercare di trovare le restrizioni e sbloccarle. Non vi leggo tutta la bibliografia, ma ormai è stata misurata anche proprio a livello di ricerca scientifica con l'elettrografia di superficie, con analisi computerizzate, con dei marcatori a infrarossi, con una pellicola kinematica 3D, e sono state misurate queste piccole variazioni tra respirazione, ispirazione ed espirazione del sistema craniale. Questo movimento dal cranio arriva fino al sacro, attraverso la dura madre, che lo porta giù fino all'osso sacro, e gli permette un movimento congro di respirazione, di flessione e di estensione. Quindi, al nostro livello, se il cranio si muove in questo modo, la mandibola e la mascella vengono trascinate in un movimento di questo tipo, portando a variare, a sollecitare, in maniera a certe volte imponderabile, ma potentissima, la funzione della mandibola, cioè la masticazione, la fonazione, la respirazione, la crescita mandibolare, cioè l'ortodonzia, e la neurofisiologia mandibolare, quindi tutte le ripercussioni che si hanno a livello poi dei contatti dentali e di tutto ciò che c'è intorno. Differenziamo lo stato cranico, che è quello che possiamo osservare in un volto, che è cresciuto già, quindi con le sue particolari asimmetrie, da quello che poi, e tutti lo possiamo fare, se avessimo tempo sarebbe divertente esercitarci fra di noi, da quello che poi invece andiamo a palpare, che invece è il meccanismo respiratorio primario. Però è come se l'osservazione fosse l'effetto di un movimento alterato, e spesso noi possiamo interpretare dei volti con delle particolari asimmetrie, anche piccole, in relazione a quello che è successo per tanti anni a livello craniale. I parametri che si vanno a osservare nel movimento craniale sono la cinetica, cioè come si muove questo cranio, il ritmo, con che frequenza si muove, abbiamo detto la norma, è 8-12 cicli, ma può essere purtroppo di meno o addirittura di più, e indica anche cambiamenti di vitalità del soggetto, la forza, la pressione che questo liquido porta dai 5 grammi fino ai 25-30 grammi, e l'ampiezza, che va da pochi micron fino in alcune zone particolari come la distanza intermolare, a frazioni di millimetri, e può addirittura arrivare al millimetro, cosa importante per un dentista che deve mettere una protesi, per esempio, che sia calcolato, che non ci sia, diciamo, una ripercussione anche del cranio a questo livello. Quindi, un quarto dubbio, se la mandibola si muove in un cranio che si muove, devo per forza integrare le conoscenze dall'osteopatia anche all'odontiatria, prima di terminare un lavoro e mettere magari materiali troppo rigidi nella bocca. E questo, chiaramente, ci allontana definitivamente da un'idea di ATM come super specialistica. È una cosa integrata, trasdisciplinare, su cui è bene che si comincia a riflettere, a ragionare, come una specie di bilanciere del corpo, che funziona un po' come l'asta dell'equilibrista. L'equilibrista non riesce a stare dritto se c'ha un'asta che pesa di più da una parte o di più dall'altra. Oppure, sì, riuscirà a stare dritto, ma compenserà. E allora è importante riuscire a indagare. Se avessi i miei 30 minuti confermati, quindi sto a metà, volevo provare a fare un po' di giochetti con voi e attaccandoci a un discorso importante. Oggi, non so se molti lo sanno, ma c'è Do Us One. Sapete cos'è? Do Us One. Fai come uno. È la giornata mondiale del respiro comune. C'è un sito che adesso purtroppo è bloccato perché c'è troppa gente che si collega. Non so se potete andare a verificare. È bloccato ancora? Do Us One che oggi in tutto il mondo fa collegare a delle stanze virtuali tutte le persone del mondo per respirare insieme. E respirare insieme, se volete, lo facciamo. Cinque minuti giusto per risvegliarvi un po' e poi dopo proseguo la relazione. Però applicando anche questi concetti di respirazione craniale. Quindi vorrei provare con voi e imparate anche un sistema da usarsi prima di un esame, prima di un'attività sportiva per cercare di riconnettere quello che è il nostro respiro polmonare che tutti conosciamo al respiro cranico che può dare anche un aiuto migliore a reagire. Abbiamo parlato di vitalità, quindi spingere, riportare la respirazione craniale a livelli di, diciamo, armonia sarà di aiuto per tutti. Intanto otteniamo che ci svegliamo magari anche un po'. Respiriamo. Ne respiriamo con i nostri polmoni, respiriamo con il nostro cranio, respiriamo anche con la nostra bocca, con la nostra mente, però attenti, se respiriamo insieme a tutte queste persone che stanno respirando insieme a noi oggi, respiriamo anche insieme alla madre Terra, che anche lei ha la sua risonanza di Schumann per respirare a 10 Hz, esattamente come più o meno cerchiamo di respirare anche noi. E facciamolo tutti insieme. Per muovere anche le membrane vi chiederei di mettere le mani con la parte che sta sotto il pollice dietro le orecchie. Una e due. Lì ci sono le mastoidi, la parte dura dell'osso temporale, ok? Se noi applichiamo una leggerissima pressione sulle mastoidi otteniamo qualcosa che fa muovere le membrane attraverso l'osso temporale e quella cosa corrisponde alla rotazione esterna che fa parte della componente ispiratoria. Quindi noi pingiamo leggermente sulle mastoidi e inspiriamo rilasciando la bocca. Poi rilasciamo le mastoidi e espiriamo e chiudiamo i denti. I più bravi di voi si concentrino anche sul tipo di chiusura. Dopo 10 di questi respiri qualcuno potrà segnalare che è cambiato il modo di chiudere la bocca perché stiamo lavorando sul temporale che è l'osso che comanda il movimento della mandibola. Dentro. Fuori. Liberate. Dentro. Fuori. Liberate le mani. Dentro. Fuori. Liberate. Dentro. Dentro. Fuori. Liberate. L'ultima volta. Dentro. Fuori. Liberate. Abbiamo cercato di riconnettere il meccanismo respiratorio più conosciuto macroscopico polmonare a questo micromeccanismo di respirazione craniale. e qualcuno di voi forse ha sentito che il contatto sui denti leggermente andava a modificarsi. Nei casi migliori addirittura diventa più congruo meno diciamo scevro di contatti e precontatti anomali. Ma a questo punto dobbiamo parlare davvero di ATM come un sistema complesso ne abbiamo parlato ormai in tutte le salse come un sistema complesso e non lineare che quindi evolve in maniera non predecibile e voglia fare protocolli di crescita partendo solo dall'osservazione della bocca e qui bisogna aggiungere delle informazioni e un sistema complesso quindi è bello però è più complesso non complicato è complesso cioè devi per forza analizzare vari fattori perché presenta proprietà superiori alla somma delle sue componenti come del resto disse Lorenz che è il meteorologo che ha scoperto diciamo così le leggi per regolare la complessità ha cominciato lui questo processo può il battito delle ali di una farfalla in Brasile scatenare un uragano nel Texas e nel suo articolo lui dimostrò che sì la piccola variazione portata dal battito delle ali di una farfalla poteva nel tempo amplificarsi fino a produrre un uragano nel Texas quindi qual è il vero fenomeno del sistema complesso piccole variazioni iniziali possono diventare grandi differenze terminali quindi io ho due casi con la stessa identica bocca uno ha dei dolori incredibili e l'altro niente ho due scoliosi uno gli fa malissimo la schiena l'altro sta a una favola se tratto quello che non ha dolore faccio un guaio dal punto di vista della vita del mio paziente però forse dal punto di vista della medicina troppo tradizionale sembra un danno sembra una limitazione quindi è sicuramente un paradigma che va modificato e il nostro effetto farfalla effettivamente è il tono muscolare Thomas a Giara Guerra nel 48 erano dei ricercatori dei neurologi che cercavano di studiare il tono muscolare nell'elettromiografia gli sfuggiva da tutte le parti e nel loro appunto si legge questa frase che mi ha sempre colpito sembrano proprio disperati degli scienziati che si scontrano con la complessità varie in ogni momento è continuamente in gioco ogni sollecitazione periferica di qualunque natura essa sia ci siamo tutti noi qui dalla nutrizione al sommato emozionale al craniale essa è essa sia è capace di provocare delle reazioni toniche questo fa spavento se cerchiamo un paradigma della certezza della linearità però è un'opportunità se invece lavoriamo per un paradigma della complessità io ho questo quest'idea diciamo molto chiara quindi non stupirci delle sorprese che il corpo ci ci presenta a questo punto rapidamente nella parte finale entro e vi presento uno strumento di una banalità incredibile che però ha cercato di essere proprio il risultato lo presento come esempio di un'integrazione tra questi concetti che sembrano sempre un po' troppo eterei al medico specialista a invece a cambiare concretamente un pezzo di plastica un apparecchietto e a renderlo più adatto a lavorare nei due sistemi il bite drop ci siamo posti la domanda visto che dobbiamo mettere questi apparecchi in bocca alla gente come dentisti è possibile trovare uno strumento che rieduchi la statica e la dinamica del sistema non soltanto ATM ma cranio cervico mandibolare quindi interessando anche la postura del cranio è possibile che mantenga i risultati è possibile che non induca restrizioni perché il più delle volte uno strumento specialistico magari fa del bene all'organo però crea sconquassi a distanza quindi crea altre restrizioni sulla bocca chiaramente il cranio oppure la cervicale e addirittura che faccia il contrario cioè che trasformi le parafunzioni del paziente il serramento tutto ciò che dà rigidità in qualcosa che invece libera amplifica e che possa avere anche effetti sistemici è possibile provare a lavorare su questo e abbiamo tirato fuori il bite drop bite dinamico di riposizionamento clusoposturale che qui vedete nella sua versione precedente e nella sua versione attuale brevissimamente perché lo so che non sono specialisti ma sarebbe interessante vediamo quali sono le caratteristiche di uno strumento del genere intanto è uno strumento che non sposta i denti però può lavorare nella meccanica della mandibola quindi per esempio lavora sul clic mandibolare sulla cefalea sui problemi meccanici e può preparare all'ortodonzia liberando le tensioni muscolari e craniali e lavora il più cattivo di tutti lavora sui problemi articolari quindi c'è proprio un blocco quasi da andare dal chirurgo c'è un altro tipo più sottile che lavora invece sulla competenza muscolare un altro tipo che lavora addirittura sulle catene muscolari arrivando a dare segnali anche in basso nel corpo e l'ultimo tipo non ci vergogniamo di definirlo cranio sacrale cioè che rispetta i parametri di quelli MRP che abbiamo visto prima chiaramente a questo punto devo dire una cosa incredibile meno male che non c'è l'avvocato però io dentista vabbè io mi salvo perché sono anche osteopata però un dentista ha bisogno di un osteopata anche solo per prendere la scera qui l'ho messo molto trasparente così nessuno se ne accorge però per prendere la scera per costruire l'apparecchio ok lo fa il dentista però una controllatina anche da chi ha le competenze di guardare di più anche il cranio e il resto è di aiuto non è togliere al mestiere dell'odontoiatra a mio parere ok non è chiaramente non è così automatico dire che allora gli osteopati si mettono a fare i bite non voglio dire questo però è un modo di integrazione che migliora entrambe le specialità è qualcosa di nuovo che si viene a creare con chiaramente il vantaggio del paziente e poi ci sono i trucchi i trucchi tecnici una molla retroincisiva una molla messa in un punto chiave dell'arcata superiore aperta all'indietro che facilita esattamente quel meccanismo craniale che voi stessi avete stimolato sul temporale uguale nei macellari che fanno questo movimento di questo tipo quindi l'omega in quella posizione favorisce questa meccanica ma non è l'odontoiatria che ci ha insegnato dove mettere questa molla è l'osteopatia quindi è un riassunto di un'integrazione è un esempio dopodiché il bite fatto in questo modo viene modellato viene sistemato e i più furbi di voi si staranno chiedendo sì ma è colorato ok effetti sistemici cromoterapia che male ci fa visto che i denti sono degli odontoni e sono dei punti riflessi esattamente come l'orecchio i piedi le mani perché non usare anche la corrente elettromagnetica della luce visto che è uno strumento che va portato anche di giorno e va portato parlando va portato diciamo non a letto e basta si porta anche di giorno il bite drop allora perché non sfruttare la possibilità di andare ad illuminare con la frequenza giusta quello dontone corrispondente abbiamo preso le mappe che non abbiamo fatto noi e abbiamo lavorato su questo concetto di cromoterapia il paziente più delle volte neanche lo sa dice che carino sembra sembra l'arcobaleno ok quando andiamo avanti gli spieghiamo anche che ha pure questo effetto diciamo sistemico che effettivamente ha permesso di abbreviare tantissimo la curva di adattamento questa è una cosa incredibile cioè i bite bellissimi fatti prima della cromoterapia un sacco di tempo per adattarsi i bite con la cromoterapia e i pazienti si adattano nel giro di pochissimi giorni come se effettivamente ci fosse un effetto sistemico che non sono però in grado con la mia competenza scarsissima di valutare però ecco sarebbe un altro argomento interessante da risolvere da valutare insieme alla fine come funziona io stringo serro faccio cose cattive il bite drop con la sua molla le trasforma in cose buone trasforma la rigidità in dinamica portando alla fine a una dinamizzazione della sutura palatina di una sutura importantissima del cranio che sta proprio sotto l'osso sfenoide altre caratteristiche del bite sono importanti il contatto preciso vedete sulle cuspidi di stampo che sono quelle che si bloccano nella fossa antagonista non quelle che scivolano o a destra o a sinistra queste si chiamano cuspidi di taglio e servono solo a masticare le altre sono quelle di stampo e servono a stabilizzare la bocca sono quelle ortopediche diciamo le altre sono quelle dentistiche ok io posso tagliare questa cuspide tantissimo il mio paziente non avrà problemi posturali non riesce più a tagliare l'insalata però non avrà problemi posturali sfioro questa cuspide e il mio paziente ha problemi enormi di meccanica e di postura per cui quelle sono le cuspidi articolari allora il contatto deve essere puntiforme stabile non deflettente quindi non scivolante bilaterale e sincrono e sul bite si cerca di dare questo tipo di appoggio ottenendo effetti strutturali posturali funzionali e craniosacrali voi capite che conta molto lo spessore perché un bite funzioni a livello craniale non può essere troppo alto però se ho un blocco qui mi serve alto quindi lo stesso bite nel tempo passa diciamo cede la palla alla funzione più profonda più delicata più fine che c'è sotto quindi questo è un po' il ragionamento quindi per esempio se un osteopata mette le mani sul cranio di un paziente che ha un bite strutturale può sentire cose brutte può sentire una violenza però lì serve l'effetto diciamo ortopedico vedetela così qua sotto invece non è più il dentista che comanda ma è l'osteopata che gli dice guarda mi serve un po' meno tensione un po' più tensione anteriorizza posteriorizza ecco adesso funziona e allora ecco la sinergia si manifesta veramente nella concretezza ciò proprio penso due minuti credo purtroppo vediamo se riesco un attimino a farvi vedere un'altra cosa strana questa è la fonartrometria la fonartrometria è uno strumento che siccome costa troppo poco non si usa che però serve ad analizzare il suono di risonanza da un soggetto sonoro diciamo in questo caso qua sotto c'è lo spettro delle frequenze e un suono basso ha i suoi picchi in frequenze di un certo tipo mentre un suono acuto ha i suoi picchi in frequenze di un altro tipo se noi applichiamo questo strumento all'ATM e ci ricordiamo che l'ATM è uno strumento musicale quando è patologica l'ATM sia nel click che nel locking che nel normale nel clicking e nel locking emette rumori perché ci sono un sacco di strutture c'è il disco c'è il legamento c'è il muscolo c'è lo sfregamento c'è il liquido e un ATM che non sta bene fa rumore ve ne sarete forse accorti anche qualcuno di voi c'è qualcuno che ha un click mandibolare qui qualcuno c'è pochi però ci state quello lì è un rumore che in qualche modo può essere analizzato e valutato attraverso questi esami semplici da un non rumore si passa in correzione di patologia a un rumore forte poi diventa un rumore debole poi sparisce il rumore ma non è che è guarito sparisce perché il disco ha smesso di muoversi il disco di cartilagine che abbiamo detto all'inizio poi ritorna il rumore ma questa volta è brutto è un rumore sabbioso di sfregamento ogni fase ha le sue frequenze e più bassa la frequenza e ampia ampio il tempo di emissione meglio stai più sottile il tempo e alta la frequenza peggio stai perché vuol dire che il rumore viene messo da strutture ossee e non più muscolari legamentose allora prendiamo un paziente che fa click ve lo faccio sentire ma non si sente mi sa troppo basso con la quadrometria va bene no questo era il suono dell'apertura e della chiusura e lo analizziamo e scopriamo che in questo caso il click purtroppo ha questa frequenza blu che è altissima 4000 Hz di frequenza quindi c'è un suono molto acuto presentato purtroppo da una componente ossea danneggiata trattiamo il paziente con l'osteopatia il click che c'era prima coincidente osseo rimane ma appare un altro click allora il paziente si spaventa dice oddio l'osteopatia mi ha peggiorato la situazione no analizziamo questo secondo click e scopriamo che non ha più le frequenze ad alta ad alta ad alta frequenza ma sono apparte delle frequenze basse questo vuol dire che è un rumore legamentoso muscolare che significa che il disco che era bloccato si comincia a muovere quindi questo per assurdo è interpretabile come un rumore buono cioè ricomincia il movimento questo paziente con un bite ora potrà guarire prima senza questo altro click il bite non avrebbe risolto il problema per dire come è importante poi integrare oppure un click reciproco precoce questo è incredibile si sente addirittura non si sente va bene ci sono dei click che spariscono con il bite ma spariscono perché sono stati semplicemente perché c'è il bite che fa lo spessore il problema poi è mantenere i risultati allora lì scatta il tema della terapia integrata nessun bite riesce a fare da solo le cose che si riesce a fare insieme al fisioterapista insieme all'osteopata perché il bite ha molti limiti che vengono in qualche modo integrati da una terapia integrata qui chiaramente ho dovuto tagliare ma sarebbe carino anche descrivere come poi si agisce sull'ATM ma lo rimandiamo ad un'altra redazione invece brevissimamente proprio in chiusura in chiusura ce la faccio cosa è successo al volto di questa ragazza sono tre cugine no lei è al centro qui abbiamo lei però con un software è stato tagliato il volto è duplicato la parte destra e dall'altra parte è duplicato la parte sinistra quindi questo è un tutto destro e un tutto sinistro notate l'anomala precisione del volto diciamo l'anomala simmetria questo è un volto normale bello asimmetrico però l'osteopatia ci insegna da tempo analizzare i volti e a metterli in correlazione con la postura con il corpo con la bocca io adesso non riesco più a impostare un trattamento ortodontico se prima non ho fatto un'analisi di questo tipo perché certe bocche storte stanno bene in quel cranio lì e non per forza le devo raddrizzare oppure se le volessi raddrizzare dovrei raddrizzare anche il cranio se no sono sicuro che gli scappa fuori qualche altra patologia è proprio un paradigma diverso da utilizzare e l'osteopatia ci insegna a valutare proprio queste tipologie di forma cranica differenziandole diciamo disfunzioni che noi in osteopatia definiamo fisiologiche cioè compatibilissime con la normalità e disfunzioni più pesanti più traumatiche patologiche queste vanno trattate perché se non le tratto qualche problema lo danno questo non è per niente detto allora vediamo se riesco abbiamo fatto un'analisi che è durata quattro anni nella nostra scuola in cui abbiamo valutato a livello di fotografie la bellezza di 723 pazienti per analizzare come si distribuiva lo stato cranico di tutti questi pazienti abbiamo fatto un lavoro con gli studenti della nostra scuola e questi sono i risultati di questo gruppo ne abbiamo presi qualcuno 154 che dovevano sottoporsi a terapia col bite e allora abbiamo detto andiamo a vedere se è vero anche il contrario cioè se l'osteopatia aiuta l'odontoiatria a produrre un bite più intelligente e a produrre risultati migliori sui pazienti specialistici vediamo se il bite pensato in questo modo riesce a dare una mano a raggiungere gli obiettivi dell'osteopatia abbiamo normalizzato gli operatori che ascoltavano il cranio attraverso l'uso di questo strumentino che avete visto si muove come fa il cranio e abbiamo sottoposto a diciamo a valutazione di meccanismo respiratorio primario questi pazienti voi adesso nei grafici che vedrete sono tre slide poi finisco focalizzatevi sul giallo il giallo del grafico rappresenta diciamo la situazione di normalità cioè l'ampiezza giusta corretta che ci si aspetta da un cranio mentre invece l'azzurro è il troppo stretto e il rosa è il troppo largo che sono due forme comunque entrambe patologiche allora ci siamo chiesti prendiamo dei crani che si muovono bene dei crani che si muovono male ma non malissimo e dei crani che si muovono invece in maniera patologica e vediamo come il bite può agire in queste disfunzioni abbiamo misurato in tre tempi T0 T1 che è una settimana dopo l'applicazione del bite e T3 che sono tre mesi dopo l'applicazione del bite il paziente veniva valutato senza bite in bocca però dopo averlo portato secondo le regole per questo periodo e abbiamo provato a vedere se l'ampiezza adesso abbiamo fatto l'analisi sulla cinetica sul ritmo sulla forza e sull'ampiezza ma è troppo complicato vi presento solo l'ampiezza e abbiamo visto cosa è successo prendiamo i casi con un cranio che già di partenza stava bene quindi era neutro non c'erano disfunzioni infatti l'ampiezza gialla vedete cioè il gruppo di pazienti che avevano un'ampiezza normale molto alto già in partenza erano il 40% qualcuno un po' di meno pochissimi troppo poco o troppo tanto mettiamo il bite dopo una settimana da 40 andiamo a 53 non è statisticamente rilevante quindi il bite nei casi di cranio in neutralità non ha effetti osteopatici rilevanti un pochino aumenta ma insomma tende a tornare normale dopo tre mesi 46 si discossa troppo poco da questo valore ok quindi è un normalizzatore di movimento cranico ma non fa di più nei casi invece con lesione fisiologica vedete il giallo in partenza è molto poco cioè c'è un numero molto basso di pazienti che hanno una ampiezza normale dei movimenti l'11% il bite incredibilmente è stato fatto in cieco cioè gli operatori che valutavano non sapevano se questo era un paziente del gruppo 1, 2 o 3 andavano a misurare un 75% dei pazienti che ora presentavano dopo una sola settimana condizioni di normalità dopo un po' di tempo tre mesi questo 75% scendeva al 62% statisticamente rilevante il cambiamento cioè il bite ha avuto un effetto anche osteopatico perché è pensato in maniera osteopatica e c'è quella molla che agisce quindi abbiamo definito il bite nei crani che hanno una lesione fisiologica un induttore di espansione cranica più interessante ed è l'ultima slide nei casi di lesione patologica cioè quelle lesioni più dure più rigide che portano quasi sempre a una scoliosi all'emicrania o a qualche fatto che va trattato nel paziente cioè che poi diventa medicina organica diciamo partivano bassissimi 3% delle persone con lesione patologica avevano un'ampiezza normale all'inizio e infatti è raro trovarle con questa condizione mettevamo il bite dopo una settimana restavano il 3% mi stavo un po' a preoccupare quindi il bite non riusciva a combinare nulla se non un pochino far apparire qualche ampiezza maggiore nella prima settimana ma dopo tre mesi il bite ha portato questo campione dal 3% al 46% mostrando quindi un effetto cumulativo cumulativo lento che serve piano piano come a sbloccare e a dare comunque dinamicità a un cranio un cranio con un'ampiezza di questo tipo è in grado di autoguarire molto di più dell'altro è in grado di accettare un trattamento ortodontico senza recidive senza diciamo fattori congruenti che possono peggiorare la situazione e non sviluppa patologie della vista si parlava con il relatore di questa mattina delle conseguenze anche oculari di un trattamento ortodontico troppo violento in un cranio che ha questo tipo di ampiezza di mobilità si possono usare apparecchi più leggeri per spostare i denti che danno meno conseguenze negative a questo punto quindi io vi ringrazio della pazienza e ho voluto usare questo piccolo strumento per far vedere che è possibile prendere qualcosa da un mondo il non convenzionale e portarlo nell'altro mondo per ottenere un vantaggio reciproco vi ringrazio della pazienza dell'ascolto grazie grazie